Ora prenderemo un altro foglio di carta, la solita matita, e poi continueremo a scrivere le altre lettere dell'alfabeto. Questa è una mela. La prima lettera di mela è la lettera M. Perciò scriviamo tante belle M. Questa è una nave. La prima lettera di nave è la lettera N. Ora scriviamo tante belle N. Questa è un'oca. La prima lettera di oca è la lettera O. Adesso scriviamo tante belle O. Questo è un pesce. La prima lettera di pesce è la lettera P. Ora scriviamo tante belle P. Questo è un quadro. La prima lettera di quadro è la lettera Q. Adesso scriviamo tante belle Q. Questa è una rana. La prima lettera di rana è la lettera R. Ora scriviamo tante belle R. Questa è una scimmia. La prima lettera di scimmia è la lettera S. Adesso scriviamo tante belle S. Questa è una scimmia. La prima lettera di treno è la lettera T. Ora scriviamo tante belle T. Questa è l'uva. La prima lettera di uva è la lettera U. Ora scriviamo tante belle U. Questa è una valigia. La prima lettera di valigia è la lettera V. Ora scriviamo tante belle V. Questa è una zucca. La prima lettera di zucca è la lettera Z. Ora scriviamo tante belle Z. Ora abbiamo finito tutto l'alfabeto. Ma dovremo ripeterlo finché non lo impariamo a memoria. E nel prossimo clip potremo scrivere anche le parole complete. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al mio canale per vederne altri.